Vorrei chiederti, secondo te, qual è la parola più abusata di questi tempi che ti infastidisce? Non so, non ci ho mai pensato. A me infastidiscono i concetti, mi infastidisce il dolo nell'uso delle parole, quindi ci possono essere delle parole che non sono particolarmente abusate ma che secondo me vengono usate in modo doloso e questo mi ferisce e mi offende. Sicuramente l'abuso della parola comunista usata come insulto, io personalmente trovo insultante che anziché scegliere l'infinita ricchezza e le infinite differenze di significato che si possono dare e anche per definire i propri avversari si debba invece banalizzare tutto usando in modo improprio una parola che vuol dire tutt'altro. Io penso che però le persone siano un po' stanche di questa banalizzazione, di questa sintesi dolosa. Associandolo al mondo femminile, alle donne, qual è la cosa che trovi più irritante da dire a una donna? No, non è soltanto una cosa da dire, anche perché credo che sicuramente ci sia un uso ignobile del linguaggio delle donne, al quale peraltro ci siamo abituate, alle parole ci siamo abituate, all'insulto gratuito, alla molestia gratuita, perché la molestia è sempre gratuito, ovviamente purtroppo ci siamo abituate, quindi credo che qualunque parola che non è gradita, che non ci interessa, anche se non è, dovrebbe essere motivo di rivolta. Credo che sia ovviamente indispensabile ribellarsi e combattere contro tutti i sopprusi, le ingiustizie e le violenze, ma credo che molto prima di arrivare alle aule dei tribunali, la questione che riguarda il linguaggio, quindi la questione del rapporto tra persone, dovrebbe essere prioritaria e noi dovremmo smetterla di tollerare qualunque forma di mancanza di rispetto che ci devi anche un milligrammo verbale di dignità. Il web da ultimo ha aiutato o no la lingua italiana, secondo te, l'uso del web di internet? Io credo che tutto aiuta finché ci rendiamo conto che sono strumenti e mezzi, quando gli strumenti e mezzi diventano fini in sé e quindi quando si crede che non siano più cose che servono per comunicare o per ottenere qualcosa, ma che siano il totem, allora inevitabilmente e un po' automaticamente possano diventare negative, però credo che se rimane questa chiarezza di ruoli possano servire moltissimo. Grazie.